Vedete che ho scritto il numero, quante volte la riparremo? Vai! Jack, 1 Jack, 2 Uno, straordinario, oggi parleremo infatti della 3 Un monumento sconosciuto alla maggior parte della cittadinanza Ciac 4 Parti delle cisterne romane Ciac 7 Ciac 4 Un monumento sconosciuto alla cittadinanza Ciac 10 Sludivano le cisterne Le cisterne e vedremo con l'aiuto di una Ciac 1 Ciac 1 Parti della cisterna romana Ciac 1 Ciac 2 Ciac 2 Il formato può sforgere solamente una bassa costruzione a livello Ciac 2 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 Ciac 2